Eccoci e bentornati sul mio canale! Continuiamo con la serie dedicata alle mappe di Call of Duty Advanced Warfare Oggi andiamo a vedere Recovery Allora, vai! Che cacchio! C'ha la miseria! E' piano, piano che mo' passa, eh? Facciamo passare questo momento un po' delicato, ragazzi E poi... E vabbè, però dovete morire, oh! Ma che cacchio è? Mannaggia la miseria! Eccolo che è passato qua, eccolo che viene da qua Lo vedo, viene, sta venendo Guarda come muoio, eh? Guarda come muoio, tutto sto tempo ad aspettare e muoio E muoio Mannaggia la miseria Cacchio! Dove sta? Dove sta? Eccolo! Dove sei? Dove sei? Non c'è più? Ok Andiamo Eccolo, eccolo, eccolo Eccolo, eh! E vabbè, e vabbè E va bene, e va bene E va bene, e va bene Porca caccia la miseria A due che gli avevo sparato, porco cane Non sono morti nessuno e te due Oh, 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 oh! Che cacchio me l'ha fregato Oh, doppia piastrina là Ce n'è uno, ce n'è uno, ce n'è uno, ce n'è uno, ce n'è uno Andiamo Non ammazzare il mio amico Non ammazzare il mio amico Andiamo Allora, nel frattempo Che è passato questo momento di agitazione Stiamo facendo 0-1 Che praticamente la partita non decolla minimamente Però va bene, anche così Dire Mannaggia Che cacchio di mira che c'ho Che schifo che sto facendo Va bene Allora Mannaggia Mannaggia la miseria Vai, vai, doppia Vai Vediamo le piastrine Una Oh, si salta Non la prendi Oh, 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 oh Dai, camperiamo un attimo Dove sei andato? Guarda, ma mi spuntate qua Ma mi ammazza Oh, aspetta Aspetta che l'avevo visto qualcosa Piano, eh Piano, 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 piano Oh, 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 oh Sta qualcuno là C'è qualcuno là Eccolo in altro Vai, 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 vai Vengono tutti da qua Tutti da qua Piano ragazzi Piano ragazzi Piano ragazzi Eccolo E devi morire Però muori E no Mi ha ammazzato quest'altro Vabbè Comunque Cominciamo un attimo a parlare di questa mappa Come vedete è molto veloce Molto frenetica Non grandissima A parte quando E che cacchio E che cacchio Solamente nelle parti laterali È un po' rognosa Perché ci stanno ampi spazi Perché sennò Se si gioca nella parte centrale Eeeh Se si riesce a giocare molto bene Comunque Allora Questa è Recovery Che è praticamente Un osservatore Un osservatore Intanto si è morto Sul ciglio di un cratere Di un vulcano Hawaiano Quindi Molto Molto particolare Come location Chi è che l'ha ammazzato Cacchio Eccolo Eccolo Dove cacchio sta Mannaggiala E no Alle spalle Alle spalle No Alle spalle Non va bene Non mi piace Non mi piace Dai 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 33 41 Rischiamo pure Di perderla Nonostante Questo dove stava 5 8 Ma che è ultimo E che schifo è Che schifo è Questa Porcaccia Eeeh Muori Vendicatore No 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 Mi ha fatto prendere in colpo Quello Oh Tensione là dentro Attenzione Muori E che cacchio Dai rimontiamo un pochettino 37 45 Aspettate qua Eccolo Presso Vai Vai Tripla Tripla Con un anche Mitragliamento Penso E no Pareva troppo bello Che mi sparavo pure quello Che bella Killata ragazzi Vieni qua Presso Headshot E no Stavo ricaricando Mannaggia 10-10 Va siamo andati pari Va stiamo sotto dei 3 La cosa che vorrei Sbloccare quanto prima Per i fucili d'assalto E mettere Poi vabbè Perché è pure una Una rogna mia Del Della connessione Che non è buonissima E mettere i caricatori aumentati Oppure i doppi caricatori Che mi sarebbero Veramente comodi Dovrei ricaricare Molto di me Dove vai No Allora Questo qua Adesso ragazzi Che avete sentito Questo tremolio Dove è andato No Questo Allarme Praticamente Cambia completamente La dinamica Della mappa Cambia Proprio Dove vai Dove vai Dove vai Sei mio Ok Vai La piastrina È andata È presa grande E quindi Adesso vedrete Come sarà cambiata Soprattutto Nella parte centrale Oh bello Prendi quella Doppia piastrina E bisogna stare attenti A solo una Ad una cosa A questo gas Guardate adesso Volevo Prendere la piastrina Mannaggia Pensavo di farcela Uccidi 50 nemici Uccidi mentre giochi Con una grazia O due specialità Aspetta che ci sta Qualcuno Vieni qua Assist E no Pensando la propulsione Non ha ucciso nessuno Mi ha dato assist Mi ha dato Che ha ucciso Eccolo Mio Bella Uccisione in volo E stiamo pure vincendo Attenzione ragazzi Numeri Oh 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 bello E no Questo mi ha inseguito 64 57 Siamo sopra di 7 E stiamo sotto di 8 E la cosa è molto buona Vedete come è cambiata Non c'è più la parte centrale E' diventata Solamente la parte laterale E in mezzo c'è tipo Tutta questa vegetazione Questa E' molto particolare Cambia veramente radicalmente E' vinto 65 60 E andiamo E andiamo E questa ragazzi Era Recover Che è un osservatoio Sul ciglio di un cratere Di un vulcano Hawaiano Ci vediamo nel prossimo video Dove andiamo a vedere Ovviamente l'ultima Mappa Che è ovviamente Del gioco che dobbiamo vedere Che è Horizon Al prossimo video Grazie a tutti Ciao